Piero Rappa di città attivarsi, allora io sono la pedonale sì, sono la pedonale no, d'accordo, non d'accordo, è fatta bene, è fatta male, ricorso, ricorso respinto? A quanto pare sì, il TAR ha respinto il ricorso, ma quello che ci preme sottolineare noi dell'associazione è che intendiamo la città come una comunità viva che si accorda su certi valori imprescindibili, secondo me questa della chiusura del centro storico è un valore su cui essere tutti d'accordo. Ovviamente l'isola pedonale così come è stata concepita va migliorata, ma bisogna secondo me partire da qui e il TAR lo ha in qualche modo certificato. Va concepita anche in maniera diversa, no? Parcheggi che dovrebbero funzionare 24 ore su 24, attività d'accordo, entrate, chiusure, pullman, pulmini, autobus. Certo, assolutamente, poi per esempio oggi è venerdì che c'è un mercatino della frutta al parcheggio. Sotto e chiuso? Sotto e chiuso per manutenzione temporanea c'è scritto, quindi questo è già... Queste sono delle cose che non sono tanto buone, no? Diciamo, appunto, c'è ancora molto da fare, ma secondo me bisogna partire da questa conquista che è una conquista di civiltà. Noi con Città Attivarsi abbiamo lavorato con i bambini della prima, con i ragazzi della prima elementare della Pietro Mare e Rocca e abbiamo fatto uno spot insieme a voi di Vidio Sicilia che siete stati così cortesi di produrre questo piccolo filmato. Non tutti sono d'accordo sull'isola pedonale però. Certo, non tutti sono d'accordo, però credo che sia una questione di costi-benefici. Secondo me, programmando bene questa ZTL, come appunto dovrebbe essere, dovrebbe diventare, secondo me è il vantaggio poi di tutta la cittadinanza. Giardini частissima